Angelo Filomena che è proprio la figura storica, il padre storico di questo presepe. Tanta passione, tanto impegno, tanta fede. Sì, tanta fede. La nostra peculiarità è quella di portare gente nel centro storico, di rivalorizzare il nostro bellissimo centro storico che è molto sottovalutato. Ogni anno ci mettiamo tanta passione. Io con i miei amici, come dicevo prima, l'amico Mario Affortunato e Renato Garotenuto, dedichiamo tempo e anche denari per portare avanti questa iniziativa. C'è una grande organizzazione, un grande lavoro alle spalle perché ora noi vediamo tutto bello e pronto e ci godiamo questo presepe vivente, però chiaramente c'è un lavoro retrostante. Molto, molto lavoro da dedicare, togliendo tempo alla famiglia ma al lavoro. Sì, è un lavoro. Tanto impegno, tanta maestranza, ma per il paese di Motto e tanta passione. Beh, è bello perché si respira, proprio lo notavo, no? Avevamo appena con il mio operatore parcheggiato la macchina e sentendo i suoni natalizi, sentendo gli odori, vedendo questa partecipazione ho detto beh, è Natale. Grazie. 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 Grazie.